E' stato un buon banco di prova Un Mazzarri che fino ad oggi l'hanno additato come difensivista Non è sembrato tanto difensivista stasera No, però si vede che gioca sempre con il 3-5-2 Secondo me nel corso della stagione dovrebbe iniziare a cambiare Come hai visto le due punte stasera? Osvaldo Icardi insieme dice che possono convivere o no? Assolutamente sì, assolutamente sì Passa la parola qua al ragazzo a fianco Dai, due parole in commento Almeno alla tripletta di Kovacic, dai Non per parlare però chiaramente è buono l'inizio Speriamo che si prosegua su questo passo Anche se la strada è ancora lunga E tortuosa, è tortuosa Lunga e tortuosa Va bene Niente, dai, un'ultima domanda su Kovacic Direi, grande protagonista di serata Bellissimo il pallonetto Non ha segnato in tre anni Stasera ci ha ripagato però, dai Due anni, tre gol, va bene così, dai Va bene così, speriamo che arrivi a dieci, dai Almeno quelli Mi piaceva in questa stagione Va bene Ciao ragazzi, un saluto a tutti